Ciao. Perché no? No, certo. Faccio ancora in tempo per Lisbona, signorina. Temo che sia troppo tardi, signore. Ora sentiamo. Ho qui il signor Lachnée. Ancora in tempo? Aspetta, vedo se hanno ritirato la passerella. Se hanno già ritirato la passerella, niente da fare. Va bene il passeggero per Lisbona. Mando immediatamente a prenderlo. Signor Lachnée, presto venga con me, la prego. Grazie.